C'era una volta una piccola fattoria situata in un tranquillo villaggio. In questa fattoria viveva un contadino di nome Giovanni, che possedeva una gallina molto speciale chiamata Elisa. La particolarità di Elisa era che ogni giorno riusciva a depore un uovo d'oro. La notizia si diffuse rapidamente nel villaggio, e la fama della gallina dalle uova d'oro raggiunse le orecchie di tutti gli abitanti. La gente cominciò ad affluire verso la fattoria di Giovanni per vedere con i propri occhi questo miracolo. Giovanni decise di sfruttare questa incredibile capacità di Elisa per migliorare la sua situazione finanziaria. Ogni giorno, raccoglieva l'uovo d'oro e lo vendeva al mercato del villaggio, guadagnando una somma considerevole di denaro. Grazie a Elisa, il contadino divenne ricco e presto poté permettersi una vita molto agiata. Tuttavia, Giovanni era avido e desiderava ottenere più ricchezze. Invece di accontentarsi dell'uovo d'oro che Elisa produceva ogni giorno, decise di svelare il segreto di questa straordinaria capacità. Pensava che se avesse aperto lo stomaco della gallina, avrebbe trovato un tesoro nascosto all'interno. Così, un giorno, Giovanni prese coraggio e uccise Elisa. Tuttavia, non trovò nessun tesoro nel suo ventre. Realizzò che aveva perso per sempre la fonte delle sue ricchezze. Da quel momento in poi, non arrivò mai più un altro uovo d'oro. Giovanni si ritrovò nella stessa condizione di prima, ma senza la gallina che produceva l'oro. Capì il suo terribile errore e provò rimorso per la sua avidità. Comprese che era stato egoista e che avrebbe dovuto apprezzare e rispettare ciò che aveva invece di cercare sempre di ottenere di più. La lezione morale di questa storia è che l'avidità può portare alla distruzione di ciò che è veramente prezioso. Elisa, la gallina dalle uova d'oro, rappresenta l'opportunità unica che ogni persona ha nella vita. Bisogna essere grati per ciò che si è e imparare a godersi i frutti del proprio lavoro senza essere guidati dalla brama di accumulare sempre di più. Se ti è piaciuta questa storia e vuoi ascoltarne altre, ti invito a iscriverti al mio canale YouTube Storie e Racconti. Sarà un piacere condividere con te altre avventure e lasciare un like sul video per supportare il mio lavoro. Grazie.